Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio video, scusate per l'assenza ma come sapete adesso comincia a essere dicembre e ci sono tutti i vari preparativi per Natale e non ho avuto tempo di registrare. Una cosa che però ho avuto tempo di fare naturalmente è di fare un bel po' di shopping di cosmetici. Infatti voglio appunto parlare con voi di alcuni acquisti che ho fatto in questo periodo. Allora cominciamo subito. Avendo tantissime cose qui vicino a me e in ordine di cronologico in questo periodo stanno facendo in profumeria da me la promozione del 30% e ho voluto comprare appunto questo set di Travel Exclusive di Clarenne e all'interno ci sono due Instant Light Lips Perfector Collection. Quello che ho scelto io sono appunto composto del numero 1 e numero 2 e li faccio vedere aperti. Il numero 1, questo qui, è un rosa. L'apertura è fatta con la spugnetta. Ecco qui, questo è quello che utilizzo praticamente tutti i giorni. Ma quando lo sto utilizzando, quando l'ho comprato questi qui li sto utilizzando sempre perché mi piacciono davvero molto. E l'altro che ancora non ho avuto l'opportunità comunque di provarlo è questo che è il numero 2 e ha questo colore qui. Non si vedrà mai che è un colore nude. Anche questi qui, tutti e due, danno solo un po' di luce. E questi qui mi sembra di averli pagato intorno ai 20 euro. 12 3D, no, quindi 16 euro se non erro con lo sconto. E devo dire che mi sono piaciuti veramente tanto. Sono in full size e li ho provati e non ci sto trovando bene. Non durano tantissimo, però mi piace di applicarli periodicamente. E questo è uno dei questi fatti appunto da il duty free. Un'altra cosa che volevo veramente da tanto tempo e che ho aspettato appunto gli sconti per fare è questo fondotinta. Questo della Clarenne sempre. Sto provando un amore sviscerale per questa marca che penso si possa notare. E questo qui è il numero 108 della Skin Illusion. Il numero 108 è la colorazione della Sand. È una colorazione molto chiara. Cioè ce ne stanno di più chiara, però si apre così. E questo qui appunto è il packaging Skin Illusion. Il numero 108 Sand. È un fondotinta ideale per pelle da normale a secche. Io appunto questo periodo sto avendo questo tipo di problema per la mia pelle. Infatti serve molte gradazioni. Questo dà veramente un effetto pelle, un effetto seconda pelle e non si vede assolutamente molto leggero e non si sente addosso. È proprio l'ideale del mio fondotinta. E questo appunto è un fondotinta liquido. Dopodiché vediamo un'altra cosa che ho comprato sempre a duty free. È questa crema qui della Bioderm. È l'Acqua Source Nui. È un gel idratante della linea Acqua Source Nui appunto per la notte. E questo qui è il packaging. Io già ne ho usato abbastanza perché lo metto tutte le sere. Mi piace da morire perché ha l'erogatora compitta. E vi faccio vedere un po' come è la consistenza. Eccola qui. È veramente molto gelosa, però allo stesso tempo, essendo appunto un gel, si assorbe immediatamente. Ecco, già così si è praticamente già quasi assorbita. E questa qui è l'unica, diciamo, di questi prodotti che sto già utilizzando tutte le sere appunto. Questa qui. Gli altri prodotti li ho utilizzati solo per provarli. Dopodiché passiamo appunto, sono stata del mio anniversario, sono stata a Firenze. E a Firenze ho avuto l'opportunità, oltre a fare tanti ragazzini, di passare alla Lush. E ho comprato appunto il famoso shampoo Big, quello salmarino. Questo ha un profumo spettacolare, ragazze. Questo bisognerebbe comprarlo solo per adorarlo. Io durante tutto il giorno che l'ho comprato domenica o lunedì, non mi ricordo, stavo sempre ad adorare questo coso. È una cosa impressionante, è buonissima, è veramente qualcosa di eccezionale. Questo qui ha il salmarino, lo shampoo al salmarino, che regala volume e rinforza i capelli. Ed è vero. Io l'ho provato, ne basta pochissimo e devo dire che mi è piaciuto, mi piace veramente tanto. Non lo metto tutti i giorni, ma lo alterno. Lo alterno con altri shampoo che sto utilizzando in questo momento. Dopodiché ho comprato sempre da Lush. Questo qui, che è il... Non ce l'ho scritto. Perché non mi hanno dato... Questo è il Pumis Power, che ha un profumo agrumato fantastico. Anche questo lo sto utilizzando quasi tutti i giorni e devo dire che vedo nei miei piedi un grande miglioramento. Proprio perché appunto questo panetto è fatto in principal modo da pietra pomice. E io avendo dei problemi con i miei piedi ho bisogno di qualcosa che mi levighi e mi vada a fare un trattamento specifico tutti i giorni. Molto, molto buono. Praticamente tutti questi prodotti che potete riuscire a provare. Ve ne parlerò appunto durante i prodotti preferiti del mese. Dopodiché ho ricomprato il mio Gel Dug, che è quello della B.O.B. Il Gel Dug, questo qui è il 97%. Io mi ci trovo da favola e... Ormai questo qui da un paio di anni. E' fatto così con l'allocatore a pompetta. Mi ci trovo bene e lo rivolgo sempre. Sarà la quinta o sesta. Questo l'ho comprato da me pura sì. Dopodiché vi voglio far vedere un mio piccolo cruccio che sto avendo in questo periodo. Cioè per il cruccio delle creme in mani. E appunto questa qui è la nitrogena che bisogna sempre avere in casa. Io l'ho ricomprata perché ne avevo una barrettolina e l'ho data ai miei genitori. Questa me la tengo io. E poi ho comprato queste piccole cremine idratanti. L'ho pagata molto poco perché sono una travel size. E' della marca Coven de Minin. L'ho comprata da Ticotin. E sono quattro. E queste qui... Una è all'arancia e basilico. Quest'altra è alla Burro di Carité. Questa qui è al... Fiori d'arancio. E... Petigren? Non lo so che cos'è. Comunque è fiori d'arancio. E queste qui sono alle... Alla rosa. Alla rosa, la classica alla rosa. Questa... Devo avere un sapore buonissimo. E ancora non le ho aperte. Sono tutte chiuse e sigillate. E questa andrà a finire subito. Diretta nella mia bolsa. Ho fatto un sapore da un attico. E ho voluto approfittare di una promozione che ho sentito parlare tanto in giro. Che è appunto questa qui della nuova collezione di Cepria e Blush. Allora, io ho voluto provare questa qui che è la Radiant Fusion. Il numero che ho preso io è il numero 02. E l'ho sentito parlare tutti molto bene. L'ho provata una volta e devo dire che mi piace molto. Questo qui è il packaging. È veramente qualcosa di spettacolare. E questa qui appunto è la Cipria. Non so che per me l'avrete vista in tutte le salse. Però ve la voglio far vedere anch'io. Questa è la texture. Rimane molto, 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 devo dire, molto setosa. Ha una texture molto setosa. Dice di essere luminosa. Però non lucida per niente la pelle. E devo dire che mi piace davvero moltissimo. Questa qui che ho preso io era il numero 2. La prima cosa che questa superficie è un po' soggetta a di date. Dopodiché ho comprato anche un blush. Questo qui è sempre per parte della Shade Fusion. Il numero che ho preso io è lo 01. Che è praticamente questo colore qui. È quello un po' più naturale. Che dona molta luminosità al viso. E devo dire che ancora questo non l'ho provato. L'ho provato solo in negozio. Dà un colorito molto naturale. E molto salutare al viso. E mi piace veramente molto. Poi, come funzionava? Dato dall'acquisto di due prodotti di questa collezione. Potete soffrire in regalo di un correttore. E io ho voluto prendere il mio amato Full Coverage Concealer. Questo qui, il numero che ho preso io, è il numero 03. Sono andata abbastanza tranquilla. Perché già l'ho conosciuto. Questo sarà tipo il terzo che ricompro. E devo dire che questo è uno dei correttori meglio riusciti della Kiko. È quello che mi piace più di tutti. Ne ho provati anche altri. Ma alla fine vado sempre a ritornare su questo. Perché è molto coprente. Il colore si combacia perfettamente con il mio incarnato. E devo dire che mi piace davvero tanto. E nulla ragazze. Per oggi il mio video finisce qui. Io vi mando un grande bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!